Ciao, buonasera a tutti, io sono Antonio Chiera, ho 39 anni, faccio questo lavoro da quando avevo 11 anni. Mi sono innamorato della pasticceria e della gelateria perché è un mondo talmente variegato e pieno di sapori che mi affascina giorno per giorno. Antonio Chiera è sicuramente uno dei più affermati realizzatori di Le Corlie Pasticiere e ha dedicato, e potremmo dire un poema, al semifreddo all'italiano, un vero e proprio fiore all'occhiello della nostra tradizione pasticcera. Un dessert dalle caratteristiche insolite, interessanti e versatili, da sempre in perfetto bilico tra tradizione e innovazione. Esso può essere presentato in maniera creativa ed accattivante per aggiungere fascino alla vostra tavola. Un percorso descritto con passione, tanta dovizia di consigli, ricette e gulosi aneddoti sulle pagine della prossima uscita di Maglio Editore. Il mondo dei semifreddi, Antonio Chiera, la mia pasticceria gelata. In arrivo in libreria e a disposizione dei vostri freezer. I primi due ingredienti di qualsiasi ricetta, sia di gelateria che di pasticceria, deve essere cuore, amore, zucchero, latte, burro, uova, farina.